E' morta Iole Varanese, la simpatica nonnina protagonista e involontaria di una singolare vicenda che l'ha vista scontrarsi in tribunale contro la coppia Frattura Torzi, l'ex presidente della regione e il broker molisano, finito nei guai ultimamente anche per la storia dell'acquisto di un palazzo a Londra da parte del Vaticano. Storia che è costata a Torzi l'arresto da parte della gendarmeria vaticana. Ma torniamo al contenzioso tra Torzi e la signora Varanese, contenzioso che vede Torzi e il padre Enrico accusati di ricettazione e favoreggiamento, entrambi imputati nel processo legato alla famosa Villa al Mare che vide come protagonista anche l'ex governatore della regione Paolo Di Laura Frattura. La vicenda risale a circa sei anni fa quando la signora Varanese fittò un piccolo appartamento a Maria Rosaria Cerio. Si trattava di una parte della villa sulla spiaggia di Termo, il Sub 2, mai passato di proprietà alla PTS Village, la società attraverso la quale Torzi e Frattura avevano realizzato una redditizia operazione immobiliare. Da sottolineare che la PTS aveva pagato la villa circa 320 mila euro a fronte di un valore di mercato superiore al milione. A un certo punto della locazione però la signora Cerio non può entrare più nella sua casa. Io avevo fittato questo appartamento diciamo alla signora Cerio, la quale insomma per un po' è andata qualche giorno poi, ha avuto lo stop perché ci ha messo le guardie giurate e quindi non ha potuto più entrare. Per quello spoglio violento e clandestino accertato come tale da ben due pronunce resse dal Tribunale Civile di Lavino, nel procedimento nel quale le signore Cerio e Varanese sono state assistite dagli avvocati Massimo Romano e Bruno Corsi, fu avviato anche un successivo procedimento penale nel quale i due soci in affari della PTS Village furono coinvolti. La posizione di Frattura, indagato per invasione di proprietà dopo che l'ex presidente attribuì ogni responsabilità al socio, è stata archiviata, mentre Torzi è finito a giudizio per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e invasioni di altrui proprietà, primo appuntamento con i giudici il 15 dicembre. Ma non finisce qui perché quando dopo molti mesi la signora Cerio rientrò finalmente nel suo appartamento, lo trovò devastato e nuove indagini, questa volta affidate alla squadra mobile, con la scoperta che porte a Redi erano custoditi nei locali di una delle società amministrate da Torzi, la Sacom di Larino. Da qui la ipotesi di ricettazione e favoreggiamento. Il 1 ottobre si è aperto il processo a carico di Torzi e suo padre Enrico, difesi dagli avvocati Marco Franco e Egidio Iannucci. I legali Massimo Romano e Bruno Corsi difendono invece le signore Cerio e Varanese, parti civili nel relativo processo, la cui prossima udienza ci sarà il 20 maggio del 2021.